Il pensiero dei 14 giorni era un po' impaurito, diciamo, di fare questa esperienza, invece adesso il pensiero di lasciare questi nuovi amici conosciuti in questi 14 giorni mi sento un po' triste e un po' mi dispiace. Addio. Si vedeva un po'. I lacrime, però un po'. Si vede, mamma, ma in questo momento non ti voglio vedere, voglio stare qua. Io voglio vedervi perché è il mancato, però mi dispiace anche lasciarle. Ci hai tradito? No, io me ne vado. Ci siamo sentiti a telefono qualche volta e poi abbiamo seguito tutta la storia di queste esperienze sul sito che è stato molto bello. Tanto entusiasmo ci ha dato messo. Sì, sono sentito. Entusiasmo, contento, felice. Un attimo di tempo ci telefonava. All'inizio era entusiasta, alla fine era entusiasta ma stanca. Cioè, sono stato anche bellissimo, non voglio andare via.